Benvenuti nel canale delle notizie del Napoli. Qui troverai gli ultimi aggiornamenti su squadra, giocatori e trasferimenti. Non perdere nessuna notizia e iscriviti subito per ricevere le notifiche di nuovi video. E non dimenticare di mettere mi piace ai nostri video per sostenerci e aiutarci a crescere. E ora veniamo alle novità. Secondo quanto riferito, il centrocampista del Napoli Piotr Zilinski è nel radar del Liverpool. Zilinski ha giocato 37 partite di serie alla scorsa stagione e la squadra partenopea ha vinto il primo scudetto dal 1990. Dopo aver giocato un ruolo importante nel successo casalingo del Napoli nel 2022-23, il 29enne continua a essere un giocatore cruciale sotto la guida del nuovo allenatore Rudy Garcia. È stato un inizio di stagione difficile per il club italiano, ma Zilinski ha ancora 6 gol in 14 presenze in tutte le competizioni. Il nazionale polacco servirà 8 anni al Napoli nel 2024, ma il suo contratto scade la prossima estate. Ciò ha attirato l'attenzione di alcuni club europei e si ritiene che la coppia di Premier League Liverpool e West Ham si è interessata. Parlando questa settimana, l'agente italiano Gianluca Di Carlo ha rivelato che Zilinski avrebbe potuto unirsi ai Reds nel 2021. Di Carlo ha detto, visto che l'affare Zilinski sembra più facile da fare gratis, a giugno, che a gennaio, pagandolo per i club italiani. Comunque parliamo di un giocatore che poteva andare al Liverpool due anni fa. È maturato perfettamente attraverso la strada giusta che ha seguito, dalla Polonia, all'Udinese, con il trasferimento all'Empoli, poi al Napoli, dove è arrivato dopo essere diventato importante al Friuli. Il Napoli potrebbe cedere il centrocampista polacco per una cifra modica per evitare di perderlo per niente a fine campionato.